Una chiamata raccolta per stasera per i sindaci del territorio, poi lunedì si terrà un'assemblea pubblica. Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti tiene riflettori accesi sulla questione dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Si punta alla riapertura del pronto soccorso. Mettiamo da parte le ideologie, le appartenenze e lavoriamo insieme per fare un ulteriore tentativo per il ripristino dell'emergenza, sottolinea il sindaco. Insieme a tante altre comunità che vivono il nostro stesso problema. Se a tre case hanno marciato i giornali dicono in 10.000, forse erano 5.000, non lo so quanti erano. Benissimo, coinvolgiamo anche tre case, perché poi comprende anche Bosco Reale, perché comprende anche una parte di Pompei, coinvolgiamo anche Castellammare, coinvolgiamo tutte le parti territoriali di questa regione per dire che la prima battaglia da fare è la riorganizzazione della sanità, dei livelli essenziali di assistenza, ma in particolare dell'emergenza. Aliberti, come annunciato in conferenza stampa lunedì scorso, ha invitato i sindaci della Campania ad un tavolo di confronto sul tema della sanità. Chiede di programmare insieme una grande manifestazione a Palazzo Santa Lucia per ottenere garanzie rispetto alla sanità.